Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Bill e Sheila, la nuova coppia Dark. Eric e Donna in pericolo. Notizie shock in arrivo dalle news americane della SOP statunitense. Bill si paleserà al cospetto di Steffi annunciando di avere una relazione con Sheila Carter. Inoltre, ricatterà pesantemente Finn e la Forrester. Se consegneranno Sheila alla giustizia, lui racconterà alla polizia la verità sulla sparatoria e i suoi danni da parte di Taylor. Novità, purtroppo negative, anche per quanto riguarda la coppia Eric-Donna, qualcuno si opporrà alla loro relazione. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Qualcuno tenterà di separare Eric e Donna. Nelle puntate americane di Beautiful, Eric e Donna sono tornati a far coppia ed attualmente vivono a Villa Forrester felici ed innamorati più che mai. La sorella di Quinn, tornata a vestire i panni della signora Forrester, ha tolto il ritratto di Quinn dalla parete del soggiorno ed ha optato per una nuova tela che raffigura non se stessa, ma il suo amato. I Forrester, entusiasti, hanno accolto positivamente la reunion Eric-Donna. Perfino Pam Douglas, da sempre acerrima nemica della Logan, sta facendo il tifo per loro. Ma ecco il colpo di scena. Secondo quanto dichiarato da Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore della SOP, presto la situazione cambierà in peggio, in quanto giungerà qualcuno pronto ad ostacolare i piani della coppia. Attualmente, la Logan ed il Forrester convivono serenamente, senza alcuna fretta di correre all'altare. Tuttavia, presto, arriverà qualcuno pronto a fare di tutto per dividerli. E questo qualcuno, riterrà sconcertante il fatto stesso che stiano insieme. Inoltre, questa persona, metterà addirittura alla prova la loro esistenza in maniera molto aggressiva. Di chi si tratterà? Di Steven Logan, forse, ovvero il padre di Brooke, Donna e Katie? Oppur di Thorne? O ancora di Felicia Forrester? Se Steven, in passato, finì per accettare la scelta amorosa della figlia pur tra mille dubbi e perplessità, gli altri due personaggi arrivarono a commettere gesti estremi pur di boicottare la loro unione. Addirittura, un pomeriggio, chiusero donna in sauna per non consentirle di prendere parte ad una importantissima sfilata. Ma ancora, Felicia, un giorno, finì per offrire del denaro ad Owen Knight per sedurre la matrigna. Thorne, invece, assoldò due attori per girare un finto video che facesse sembrare donna rea di tradimento nei confronti di suo marito. Dunque, chi dei tre personaggi citati farà irruzione a Los Angeles per separare la coppia? In attesa di scoprirne di più, Brad Bell ha annunciato che, nella primavera del 2023, compariranno diverse new entry in quel di Beautiful. Si parla di una nuova generazione di personaggi appartenenti a diverse famiglie. Per quel che riguarda Flo e Wyatt, invece, Bell ha affermato che la ragazza e sua madre Shauna, attualmente, sono in stand-by, pur facendo ancora parte del cast. Wyatt Spencer, invece, uscirà a breve dal suo, letargo, in concomitanza ad una trama che vedrà al centro della scena Bill Spencer e Sheila Carter. Non resta che continuare a seguire le news di Beautiful. Anticipazioni Beautiful. Puntate americane. Bill innamorato di Sheila Carter. Una notizia scioccante è in arrivo dalle puntate americane di Beautiful. Bill Spencer si rivelerà essere il nuovo alleato di Sheila Carter e farà di tutto per farle evitare il carcere. Come vi abbiamo già spoilerato, Sheila non è stata affatto sbranata da un orso dopo aver messo a repentaglio la vita della nuora Steffi e del figlio Finn. La Dark Lady seminerà dei falsi indizi per depistare le indagini della polizia e ritornare a Los Angeles in tutta calma. In un primo momento, si paleserà al cospetto di Deacon Sharp, riuscendo in questo modo a soggiornare presso il suo appartamento. Poi, per orbitare attorno ai Forrester, si travestirà dalla eccentrica ed esuberante designer, Lina, entrando così nelle grazie di Steffi. Grazie ad una intuizione di Finn, la verità sulla sua finta morte verrà a galla. La polizia, da quel momento in poi, si metterà nuovamente sulle tracce della latitante. Steffi, Brooke, Ridge e Taylor saranno decisi più che mai a sbarazzarsi di lei per sempre. La Dark Lady, una notte, riuscirà però ad intrufolarsi nell'abitazione della nuora, non prima di aver provocato un blackout elettrico staccando la corrente. Poi si paleserà dinnanzi alla coppia Steffi-Finn per chiedere perdono. Le sue parole, però, questa volta, non sortiranno alcun effetto su Finn, determinato a consegnare la madre alla giustizia. Ad un certo punto, Bill farà irruzione sul posto, con sgomento, l'editore affermerà di non avere alcuna intenzione di aiutarli. Anzi, dichiarerà di essere innamorato di Sheila e di volerla a tutti i costi nella sua vita dopo l'amara delusione incassata da Katie. Al momento, gli spoiler riguardanti questa inaspettata ed inspiegabile alleanza sono top secret. Presto, scopriremo non solo come sia nato questo rapporto, ma anche se preveda qualcosa in più di una semplice attrazione fisica. Quel che è certo è che a Steffi e Finn, Bill farà uno strano discorso, affermando di sentirsi solo ed isolato esattamente come la Carter. L'editore, inoltre, in tale circostanza tornerà ad indossare il suo ciondolo a forma di spada e si definirà furente per essere stato respinto dalle donne più importanti della sua vita, ovvero Brooke e Katie. In preda al delirio, affermerà che i suoi piani prevedevano di unirsi con una delle due Logan, indifferentemente. Entrambe, però, non hanno accolto la sua proposta. Pertanto, dopo il loro, no, e dopo aver appurato che nel cuore di Brooke ci sarà solo spazio per Ridge led in quello di Katie, invece, Carter Walton, precipiterà nel momento più cupo della sua esistenza. E in tale frangente, non risparmierà nemmeno Steffi, ritenendo che anche a lei, dal momento che si è rifatta una vita con Finn, non importi più niente di lui. La figlia di Ridge, pur non comprendendo la sua scelta, lo riterrà vittima delle manipolazioni della suocera. Pertanto, si dirà decisa a rispedirla in prigione. Sheila, però, lì presente, estrarrà il suo asso nella manica, affermerà di conoscere tutta la verità sul tentato omicidio ai danni Bill ad opera di Taylor Hayes quando quest'ultima credeva che il magnate avesse fatto violenza alla figlia. E sarà così che, dopo anni di silenzio, Bill troverà il momento propizio per ricattare Steffi. Dopo alcuni giorni, la verità sul piano ordito dalla Carter e da Bill giungerà anche alle orecchie di Katie che reagirà con sconforto ed orrore. In tale contesto, si inserirà presto anche lì, disposta a tutto pur di difendere suo figlio e la famiglia di quest'ultimo da quella donna. E nel farlo, si esporrà a rischi gravissimi. E per finire. Gli spoiler segnalano anche il ritorno sulle scene di Mike, complice di vecchia data di Sheila. All'uomo, la folle Carter affiderà una missione a cui non potrà dire di no. E ci chiediamo. Bill è davvero innamorato della Dark Lady? O il suo è solo un piano per ingannarla e consegnarla alla polizia? Una cosa è certa. Il matrimonio di Steffi e Finn sarà veramente messo alla prova nel secondo 23. E per finire, ecco in arrivo delle notizie molto confortanti riguardanti, invece, il personaggio di Deacon. Se Bill farà una involuzione alleandosi con Sheila, Sharp riuscirà totalmente a distaccarsi da lei. Il barman sarà più che mai intenzionato ad essere una persona migliore. E sul fronte lavorativo, riuscirà a diventare un bravo ristoratore nonché uno dei proprietari del giardino. Insomma, ci aspetta un'annata ricca di sussulti, non credete? Beautiful tornerà per stupirci ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.